C'è il cane che sta rispondendo al telefono e quindi c'è uno che telefona e il cane fa BOW ma non ho capito ma chi è che risponde al telefono? non capisco senti non capisco ho detto BOW Bologna ancora una utile invece c'è il cane che va alla posta per mandare il telegramma e arriva sta in fila finalmente arriva al suo turno e fa BOW 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 il tipo sta lì e scrive tra schieffa ma ci enterebbe un altro BOW e il cane fa sì ma se ce ne aggiungo un altro poi non si capisce più un cazzo sono bazzolette che non piacerebbero ad alcuni cioè a quelli che le vogliono per forza sporche e io sono d'accordo non le puoi raccontare non le posso raccontare però puoi raccontare altre bazzolette molto scorrect che sono quelle che dedichi ai rapporti tra moglie e marito e alle donne vai con una di queste perché non so qual è la peggiore ce n'è una quantità malefiche quindi tu vuoi dirci che siamo una società maschiliste orrende sì certo siamo una società maschilista le donne belle nascondono qualcosa soprattutto se ti sembrano disponibili in genere sono a pagamento in alternativa sono stronze in qualche maniera te la fanno pesare quelle simpatiche sono brutte se sono intelligenti sono anche frigide vabbè ma queste quindi stronzo però l'hai detto tu non l'ho detto io l'hai detto perché invece lo potevo dirlo beh no c'è per esempio quella di ecco questa non c'è nel libro ci sono tre uomini al bar e due parlano tra di loro e uno dice all'altro mia moglie mi tratta malissimo e l'altro fa ma anche mia moglie mi tratta malissimo sì ma mia moglie non mi rivolge la parola me la rivolge solamente per dirmi che sono un cretino un deficiente tutte quelle parole che non possiamo dire ma anche mia moglie e il terzo invece sta tranquillo e sorseggia il caffè a un certo punto i due si rendono conto che questo qui non partecipa a questa lamentela generale sulle mogli e gli fanno ma tu con tua moglie come va? e lui fa ma stamattina per esempio prima di uscire da casa mia moglie è venuta verso di me in ginocchio e loro dicono straordinari che ti ha detto? mi ha detto esci fuori da sotto il letto e combatti da uomo sono di una scorretesa di una cattiveria bestiale ma guarda per esempio ce n'è una quantità straordinaria legata ma non soltanto nel mio libro io ne ho messi poche perché come dire inizialmente io volevo fare un lavoro antropologico molto serio poi ti ha preso la mano? per questo ho citato anche Calvino e il suo lavoro fatto insomma a metà degli anni 50 poi da una parte c'era Calvino che l'aveva fatto sulle fiabbe italiane dall'altra c'era Pasolini che l'aveva fatto sulla poesia e la tradizione orale per cui c'erano degli esempi molto alti e quindi come dire non essendo all'altezza di quell'altitudine diciamo letteraria ho fatto altro una che non avrei voluto mettere però l'ho messa perché secondo me è scritta bene e quindi anzi faccio un appello qui insomma tanto so che rubli saremo seguiti da insomma da quante persone milioni milioni e milioni certo e quindi veramente chi ha scritto questa barzetta su Andreotti una barzetta su Andreotti Andreotti ma non è questa non è volgare no poi Andreotti non ci può fare più causa secondo me non ci avrebbe mai fatto causa per la cosa del genere c'è Andreotti che dice al suo assistente senti caro io mangio una cosina poi mi metto nel mio studio chiamami soltanto se c'è qualcosa di veramente importante infatti lui mangia una cosina si mette nel suo studio a un certo punto l'assistente corre verso lo studio Andreotti bussa ed entra praticamente senza neanche aspettare insomma da avere il consenso del senatore fa senatore senatore è successa una cosa tremenda che cos'è caro c'è 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 un attentato un'esplosione è morto il giurio di Falcone e Andreotti fa cazzo questo già ai sei beh non mancano quelle su Berlusconi ma perché Berlusconi ma io infatti aspetto il momento in cui Saldini incomincerà a raccontare Barzelletti perché è l'unico politico di pregio che abbiamo oggi in Italia cioè parlano quasi la stessa maniera solo Berlusconi raccontano Barzelletti e la cosa magica di Berlusconi è che non lo sapeva raccontare, lui raccontava due volte il finale, quando le persone ridevano sopra lui lo riraccontava come se il raccontarlo in sé facesse ridere, perché? Perché lui si sentiva al di sopra delle barzette e Berlusconi arrivava a raccontare barzellette su Berlusconi, ma secondo me non vale la pena raccontare barzellette su Berlusconi perché, come dire, sono anche quelle lì sono capite da parte un po' come i carabinieri i carabinieri hanno anche una quantità mostruosa, però così l'hai messo per colore? L'ho messo per colore perché prima cosa che i carabinieri si ricevono le barzellette sui carabinieri sono tre, tutto il resto è verità poi una barzetta che è legata a questa storia che in realtà sarebbe un romanzo in qualche maniera un racconto, cioè un inizio, una fine delle cose che accadono e si parla molto dei treni, i due carabinieri stanno sul treno, il treno parte sferragliando, uno dei due carabinieri si preoccupa dice all'altro, guarda, forse senti che rumore fa il treno, forse abbiamo bucato, e l'altro si affaccia e dice abbiamo bucato, stiamo a camminare sui cerchioni questa è la barzelletta senti, carabinieri, suore chi ci manca? No, la pedofilia la dobbiamo totalmente bypassare no, non è detto, perché sulla pedofilia si restano alcune allora, inizialmente, per esempio, sugli omosessuali mi sembravano molte molto brutte solo, ma non volgari quella sul frocio quella su, non parlare con il... la posso raccontare quella del pappagallo quindi? Vai! Ok allora, vabbè, c'è un tipo che andando al lavoro scopre, tipo su Google Maps scopre che c'è una strada un po' più corta e la imbocca, una mattina va a andare al lavoro a metà di questa stradina c'è una gabbetta, un pappagallo e quando lui passa, il pappagallo lo guarda e fa frocio, 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 frocio frocio, 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 frocio lui rimane un po' inibito cioè, e poi tira avanti così va al lavoro la sera torna verso casa, si ricorda è la stradina più corta però a metà strada rivede il pappagallo che lo guarda e gli fa frocio, frocio, frocio frocio, frocio, frocio però se lo riperi molte volte forse è meno volgare frocio, frocio, così e due, tre mattine due, tre sere, così fino a che a un certo punto il tipo non ce la fa più suona un po' a tutti i campanelli questo condominio e chiede ma chi è il padrone di questo pappagallo così volgare? un tipo dice sono io senta per cortesia faccia tacere perché dice una parola veramente vergognosa offensiva nei miei confronti vabbè non si preoccupi la mattina dopo il tipo rimbocca la strada dritto verso la gabbietta il pappagallo lo vede e tace la sera il tipo ripassa in quella strada dritto verso la gabbietta e il pappagallo silenziosissimo al che l'uomo il frocio diremmo ma questo che tra parentesi citofona e chiede al padrone del pappagallo volgare ma senti io la ringrazio per quello che ha fatto perché veramente per me era insostenibile attraversare questa strada ma come ha fatto a farlo tacere e il tipo dal campanello risponde io ho detto che non devo all'acchi di troci eccoci scorrette scorrettissime per dirci che mostri siamo diventati liberi ma mostri tu non usi proprio le parole mostri liberi e deboli infami liberi e deboli infami liberi e deboli anche sui bambini migranti a questo punto ne vuoi raccontare anche una sui bambini migranti ma sui migranti in generale ce ne stanno tantissime è curiosa anche questa cosa bella quella del nero col cinese secondo me ok vabbè io vado a comando no no mi faccio cosa preferisci te le sei preparate no no ma va bene va bene se te le hai preparato un'altra fai la tua fai la tua poi voglio allora questa qui c'è il barista cinese e arriva un cliente negro diciamo così perché appunto si è doppia messa un pochino scorretti ma neanche trovo guarda che faccia che c'ha su questa cosa e ho detto negro non negro di merda ho detto solo negro e quindi entra il negro e dice senti cinese di merda mi fai un caffè il barista dice beh non può volgare questa richiesta perché volgare un caffè sono tanto in un bar che c'era volgare voglio un caffè allora per cortesia cinese di merda noi siamo due minoranze in questo paese peraltro perché te le dico va bene se non hai capito facciamo un gioco di ruolo allora tu adesso vieni dietro il bancone e fai il barista al posto mio e io faccio l'avventore ok così capisci quanto è stato volgare nei miei confronti è offensivo ok e quello lì il negro va dietro al bancone e il cinese entra e fa e scusa il negro è merda che fai il caffè no non serviamo il caffè ci sei il cazzo io mi ricordavo quella sui bambini migranti visto che stai su le cose leggere i bambini migranti che stanno tanti sta quella lì del bambino che c'è i bambini che ricordano col pulmo una ostia c'è il bagnino di ostia con una cofana di spaghetti che mangia c'è il bambino il più magro di tutti che sta vicino e guarda questi spaghetti bucatini questa pasta e il bagnino alza gli occhi e fa il bambino c'hai fame annuisce è tanto che non mangi tu fa così col titino è un'ora no fa così col titino ma che è un giorno no fa così col titino ma che è una settimana che non mangi il bambino negretto magro magro annuisce ah è una settimana far bagnino allora devo far bagno e questo dice come tu ci fai specchio questo come hai detto non è un caridoscopio è un catalogo è un catalogo degli esseri umani ma questo è la raccolta di barzellette ma perché appunto se non siamo diventati così almeno ci dobbiamo aspettare che lo che lo diventeremo presto perché noi capiamo le barzellette perché capiamo le barzellette sporche perché capiamo le barzellette fasciste naziste xenofobe eccetera eccetera perché c'è una parte di noi e spesso anche consistente lo vediamo anche insomma le consultazioni elettorali che è così fortemente xenofoba e razzista per cui vale la pena andare a pescare in questo sporco che c'è dentro di noi e quindi c'è anche nella nostra quotidianità insomma nelle relazioni che abbiamo con le persone che ci circondano vale la pena tirarlo fuori anche perché poi cioè lo leggiamo in quella strana cloaca che nella quale affondiamo tutti i giorni che è la rete no? che sono i messaggi alla partecipazione di così tante persone a discrizioni politiche che altrimenti sarebbero inarrivabili per la maggior parte di noi no? cioè tramite la barzetta possiamo dire porcare su tutto a discrizioni